Ben tornati a Valori in Corso, questa sera ci stiamo occupando di giovani e mondo del lavoro. Abbiamo deciso di dare un titolo forte a questa puntata, padre perché mi hai fatto questo, visto che la situazione di molti giovani, ormai neanche più tanto giovani, è decisamente difficile. Di fronte ad un posto di lavoro che paga sempre meno, che è sempre più difficile da trovare e che soprattutto è sempre più precario. Si può parlare di perdita dei diritti e questo ce lo testimoniano anche situazioni come quella che abbiamo ripreso nel servizio che adesso vedremo. Si tratta di una storia vera, abbiamo dovuto camuffare sia la vista del ragazzo di 30 anni che ci ha recato questa testimonianza, l'abbiamo anche verificata, abbiamo camuffato anche la voce, lo mi chiameremo Mario, non è il suo nome ovviamente, e andiamo a sentire quale esperienza ha da raccontarci. Io ho studiato lettera a Milano, nuovo ordinamento, ho iniziato questo percorso di studi perché il mio sogno era quello di diventare giornalista, oltre ovviamente ad ampliare quella che era la mia cultura personale e quindi una volta iniziato all'università, ai tempi devo dire ero molto positivo e sognante perché anche le aspettative verso il mondo del lavoro erano davvero molte. Dopo i cinque anni di studio, come penso la maggior parte delle persone della mia età, dopo oltretutto essermi iscritto ad un master privato, a trovare un piccolo impiego in un'agenzia che si occupava di ufficio stampa per iniziare quella che doveva essere la mia figura professionale, quindi appunto all'interno di ufficio stampa comunque all'interno poi di redazioni giornalistiche. Dopo quello sono dovuto tornare per qualche mese a casa dei miei genitori, quindi appunto sono tornato in regime di disoccupato e dopo qualche mese ho risperato di essere stato fortunato perché sono riuscito a trovare un part time per sempre un'agenzia che si era sponsorizzata come agenzia di organizzazioni e eventi ma che in realtà ho scoperto essere un'associazione a delinquere perché ero costretto e sono tuttora costretto a lavorare praticamente in una sorta di scantinato all'interno di un palazzo normalissimo. Il mio titolare ovviamente mi retribuisce il nero perché fare un contratto sarebbe troppo oneroso, non ho colleghi e praticamente non ne ho mai visti, non capisco quale sia la tipologia del mio lavoro perché pur essendo molto qualificato in realtà sono costretto a fare delle ricerche inutili, anche dei lavori per la maggior parte delle volte inutili. Addirittura il mio capo la maggior parte delle volte comunica con me su Skype quindi io devo essere praticamente quasi totalmente controllato come se fossi rinchiuso in una casa del grande fratello e questo oltretutto sarebbe ovviamente fuori legge e appunto sono anche stato costretto a partecipare a degli eventi fuori dall'orario del lavoro ovviamente senza retribuzione e quindi devo dire che per quanto mi riguarda la situazione lavorativa in Italia soprattutto per i giovani è davvero senza usare eufemismi una schipezza. Avete sentito la testimonianza di Mario e effettivamente così è uno schiavo moderno, lavora in un garage da solo, lavora sotto il costante controllo di una telecamera con un datore di lavoro che lo paga in nero e che lo controlla dal suo appartamento e in più ogni tanto lo manda in giro a fare altri servizi sempre comunque senza riconoscergli nulla. Purtroppo non è una situazione unica, sembrerà assurdo ma ci sono situazioni di questo genere come diceva Mario anche in condomini residenziali totalmente anonimi e a lavorare così non sono soltanto immigrati o clandestini ma sono a volte anche i nostri ragazzi, insomma i nostri figli. Una cosa interessante è che Mario ci ha raccontato non solo di essere laureato ma anche di aver seguito un corso successivo, un master. Qui fra i ragazzi che sono presenti nel pubblico abbiamo dei laureandi, abbiamo anche dei laureati e anche ragazzi che stanno studiando ulteriormente nel post laurea. Io vorrei chiedere a Stefano che è qui con noi, tu sei laureato in psicologia giusto? Però stai studiando ancora? Sì, sto facendo la formazione in psicoterapia e comunque è una lunga formazione sia per quanto riguarda gli anni ma anche per quanto riguarda il costo che non è un costo altissimo che però comunque grava sul bilancio di ragazzi come noi che non hanno un lavoro stabile e che comunque sono sulle spalle dei genitori. Questo cosa vuol dire? Che anche essendo bravi studenti si devono fare cinque anni per la laurea? Sì, io ho fatto tre più due come dicevamo prima e poi altri quattro anni di scuola di specializzazione per poter avere appunto un titolo di psicoterapeuta oltre che di psicologo. Quindi si arriva a 28-29 anni nella migliore delle ipotesi? Sì, è la migliore delle ipotesi. Io ho già 28 anni, diciamo, ho perso qualche anno per strada però diciamo che sono nella media. Ho capito. E poi una volta terminato questo percorso di studi c'è qualche garanzia? Assolutamente no. La questione è che bisogna sempre farsi conoscere lavorativamente però una garanzia non può essere assolutamente data. Molti concorsi per psicologi per esempio sono bloccati da tanti anni, spesso ci sono uno o due posti in una regione o in un'altra e bisogna soddisfare i criteri di psicoterapeuta, psicologo, iscritto all'albo e quindi per noi il concorso è un miraggio. Tu vivi da solo o con i cuori? Io convivo. Convivi, quindi sei riuscito comunque a uscire di casa? Sì, sono riuscito ad uscire di casa però ringrazio i miei genitori perché senza di loro in questo momento non sarei qua. Bene. E questa è una situazione che penso sia propria di molti ragazzi. Sì, vorrei sentire anche un'altra ragazza che arriva sempre da psicologia. Ti chiami? Maria Giovanna, buonasera a tutti. Ecco, Maria Giovanna, tu quanti anni hai? Ho 26 anni, sono laureata da due anni. Attualmente anch'io frequento un corso di formazione specialistica in psicoterapia. La tua esperienza, il tuo feeling col mondo dell'università? Dunque, io sono stata una studentessa fuorisede, quindi il mio modo di vivere l'università è stato decisamente particolare e diverso rispetto a chi magari ha affrontato questo percorso di studi, stando ancora a casa con i genitori, no? Quindi a 18-19 anni hai dovuto iniziare a guardarti i fatti tuoi. Esatto, esattamente. Cosa che continuo a fare, che comunque mi ha insegnato tanto e per carità sono cresciuta anche grazie a questo. Attualmente la situazione è abbastanza precaria, nel senso che c'è un po' uno scollamento tra il mondo dell'università e quello del lavoro. Vi faccio un esempio recente di cui anche voi qui in programma avete discusso, il famoso concorsone, no? Indetto dal MIUR per il 2013. Di cui abbiamo discusso parecchio la scorsa settimana, con tanti commenti poi anche successivamente. Dunque, questo concorsone è un concorso pubblico e come tanti io ho valutato di parteciparvi. Un miraggio, insomma. Un miraggio, sì, il classico miraggio. Questo concorso è regolamentato da una legge del 98, badate bene, del 98, che regolamenta l'ingresso di insegnanti per le materie tecniche. Sì, quindi ci sono le classi di concorso, ci sono delle richieste specifiche per partecipare a questa classe di concorso, devi aver fatto determinati esami. Determinati esami, esatto. E tu cosa hai scoperto? Non posso partecipare al concorso perché nel mio percorso di studi non erano inclusi questi esami. Quindi i percorsi di studio che dovrebbero preparare ad uno albocco, nel tuo caso avresti voluto insegnare dove? Psicologia in un qualsiasi liceo. Però, nonostante la laurea in psicologia, non potrai insegnare perché non hai gli esami giusti. Perché esattamente non ho gli esami giusti, che in 14 anni mi aspettavo che l'università avesse in qualche modo adeguato il percorso di studi. Quindi non solo è dissonante rispetto al mondo del lavoro, ma addirittura dissonante rispetto agli stessi concorsi pubblici per l'insegnamento. L'università pubblica dovrebbe... Quindi la scuola sta litigando con se stessa. Questa è la situazione di oggi. Ho capito. Grazie. Allora, questa testimonianza è interessante anche perché arriva da due ragazzi che comunque si stanno dando da fare nella vita perché sono comunque usciti dalla loro famiglia. Al contrario di quello che pensano alcuni nostri politici, perché se possiamo vedere ancora qualche ritaglio di giornale, vediamo il contributo successivo, un'altra frase che ha lasciato molto scalpore, è stata quella di Monti, di febbraio, che si è scagliato contro il posto fisso e ha detto che i giovani devono abituarsi all'idea che non lo avranno. Ovviamente anche lì è levata di scudi da parte poi di molti politici che hanno fatto notare, anche con parole forti, è per esempio Paolo Ferrero ha detto che Monti è un invasato irresponsabile che guarda alla società dal buco della serratura di una banca. Ecco, con queste parole hanno fatto notare il fatto che magari le frasi potrebbero anche avere un senso, ma in quel contesto suonano come un'offesa ai tanti giovani che si danno a fare e vorrebbero un qualche sbocco lavorativo che invece non ci sarà. Infatti se vediamo anche il contributo successivo, critiche molto forti da parte dei partiti. A questo riguardo. Se andiamo invece sul ritaglio di giornale ancora successivo, vediamo una frase di qualche anno fa del ministro Paolo Aschioppa. Mandiamo i bamboccioni fuori di casa. Eravamo, se non sbaglio, nel 2007, non vorrei sbagliare. Il ministro Paolo Aschioppa presentando delle proposte di legge di agevolazione agli affitti per i giovani disse che era il momento giusto per mandare questi giovani, definiti bamboccioni, fuori da casa in maniera che si dessero un po' da fare. Quindi anche lì problemi reali, però frasi molto spesso estremamente forti da parte di una classe politica che ha un'età completamente diversa da quella dei ragazzi che invece si trovano ad affrontare questi problemi. Vorrei sentire Federico a questo riguardo. Federico, zittino, tu vivi da solo? No. Io vivo con i miei genitori perché al momento con la mia precedente attuale esperienza lavorativa non ho possibilità di… Potresti vivere da solo? No, ho provato a quadrare i conti, a provare a capire se la mia occupazione mi consentisse di andare a vivere da solo e sia per quanto riguarda la parte di retribuzione, sia anche perché se da un mese all'altro non so se lavorerò oppure no, non posso… Quanto guadagni? Abbastanza poco, diciamo rispetto a quello che mi piacerebbe poter guadagnare per poter scegliere di andare a vivere. Ma qui non ci vergogniamo di nulla? Siamo sotto i mille. Sotto la fatidica soglia dei mille euro? Assolutamente sì. Ma per vivere da solo o con una compagna di quanto avresti bisogno a Torino? Più o meno lo sai? Io ho fatto un po' di conti, se riuscissimo a superare almeno, probabilmente bisognerebbe togliersi dalla testa di, fra virgolette, chiamiamo di vizi, ma sono anche semplicemente… Insomma per una vita monacale. Per una vita monacale, esattamente. Diciamo che se siamo in mille, millecento, mille due, allora si potrebbe riuscire ad arrivare con le spese affitto, bollette, spese condominiali e tutto quanto. Al di sotto… Ma stai cercando un lavoro che ti dia quei due o trecento euro in più? Sto cercando anche con l'attuale occupazione di capire se questa, da quella che è, contratti che si rinnovano di volta in volta, diventare qualcosa che mi consenta questo passo eventualmente. Perché invece adesso se io scegliessi di andare a vivere da solo, saprei sicuramente che a fine mese, ogni 20 del mese, dovrei andare dai miei genitori e chiedere aiuto. E questo non è dignitoso per una persona di 30 anni. Non è già dignitoso adesso pensare di non avere la possibilità di scegliere se stare a casa con i tuoi genitori e andare a vivere da solo. Ridurmi e dover chiedere qualcosa non… Ma quando un ministro ti dà, un ministro che purtroppo è mancato, quindi non prendiamocela con lui, ma quando un ministro ti dà del bamboccione sostanzialmente, come ti senti? Ma io penso che in realtà queste frasi siano sì infelici e siano fatte nel contesto sbagliato, ma che di fondo in realtà abbiano una volontà di svegliare, di suscitare dibattito. Purtroppo sono fatte e lasciate a se stesse, quindi in realtà rimangono frasi che offendono i lavoratori, i ragazzi che invece non sono bamboccioni, ma semplicemente come me non hanno la possibilità di scegliere. Sono costretti a una situazione e sono stati fatti diventare da parte di questo sistema del mondo lavorativo dei bamboccioni, non hanno scelto di esserlo. Guarda, secondo me hai proprio detto una cosa particolarmente incisiva, perché l'impressione che ho anch'io, a me sembra, leggendo queste dichiarazioni, sembra di sentire un commensale che a tavola si lamenti che il pollo sa di poco, è troppo tenero, filamentoso, insomma non è un pollo ruspante, e però se la prende con il pollo, e questo è il problema, ma che colpa ne ha il pollo se l'hanno messo in batteria a crescere? È vero, i giovani sono dei bamboccioni, nel senso che stanno a casa, è vero, non sono preparati per lavorare, perché molte aziende, anche da quello che sento io, assolutamente non riescono a trovare profili adeguati, non profili di altissimo livello, anche profili medi, però la colpa non è dei ragazzi, la colpa evidentemente è di coloro che se la stanno prendendo con i ragazzi in questo momento, quindi con gli adulti che hanno, adulti o vecchi in molti casi, che hanno creato questo sistema. Ma io volevo essere anche un po' più pratico, visto e considerato che, non voglio entrare in merito alla dichiarazione di Padaschiop, è un discorso trito e ritrito, quindi se ne è discusso abbastanza, voglio entrare in merito invece alle più recenti dichiarazioni di Monti, Fornero, eccetera, oserei dire, parlano loro che hanno i figli, gli sistemati, chi con uno, chi con due, chi con più lavori e tutti sicuri. Ecco, loro penso che siano le persone meno appropriate a fare dichiarazioni del genere, dovrebbero cercare di risolvere i problemi dei giovani e dei ragazzi e non prenderli in giro. Sì, purtroppo anche questo è un dato vero perché ci sono state parecchie polemiche sui figli dei ministri, non solo di questi, anche della Cancellieri, poi vedremo anche qualcosa riguardo a simpatiche dichiarazioni di Michel Martone a questo riguardo. Io però vorrei chiedere ancora ai nostri ospiti, in particolare a Guido Poccardi, con l'esperienza che hai nella selezione del personale, nel recruiting, arrivano preparati questi ragazzi o no assolutamente? Arrivano preparati nel senso che da un punto di vista tecnico la preparazione formale c'è, sostanzialmente dove manca la preparazione o comunque dove manca un certo aggiornamento è su cosa vuol dire vivere all'interno di un'organizzazione sostanzialmente, quindi la difficoltà a comprendere quali possono essere le dinamiche che caratterizzano un'organizzazione nel svolgimento della sua attività sostanzialmente. Quindi saprebbero anche fare il mestiere ma non sanno stare al posto loro? No, al posto loro, in realtà hanno solo difficoltà, hanno una scarsa consapevolezza di quelle che sono le dinamiche interne di una qualsiasi organizzazione, quindi non si tratta di non sapere stare al loro posto, si tratta probabilmente di avere un po' di difficoltà di interpretare la posizione di lavoro in un determinato modo, cioè nel modo più funzionale possibile a quella che è la richiesta dell'organizzazione. Marco Verga, tu sei d'accordo con questa affermazione? Sì, diciamo in parte, nel senso che, premettendo che la crisi è fortissima, che le offerte sono poche, comunque anche sulla preparazione tecnica talvolta riscontro delle difficoltà. Anzi, nel corso degli anni, in una decina d'anni che faccio selezione, vedo che anche una serie di test che vengono sottoposti ai candidati danno risultati che peggiorano di anno in anno. Quindi, anche su degli elementi di base, possiamo dire, la conoscenza della lingua inglese, che ormai dobbiamo andare da per scontata, in serie è sempre un punto debole per molti degli studenti, lavorati in giurisprudenza o lavorati in ingegneria. Danno esami molto di base, quindi la loro conoscenza di inglese è ancora tutta da sviluppare. Ci sono problemi anche sull'utilizzo di sistemi informatici al di fuori di un utilizzo normale per navigare in internet o fare queste cose qua. Quindi ci sono degli elementi sia di carattere di contesto, ma sia elementi anche specifici sulla preparazione. Ma riguardo quello che diceva Guido Poccardi, cioè sulla mancanza di preparazione dal punto di vista del ruolo, ecco, ultima domanda Guido, prima del break. Secondo te il motivo qual è? Il fatto che non abbiano mai lavorato, sostanzialmente? Arrivano a 30 anni. Il fatto che non abbiano mai lavorato lo devo per scontato, se no i giovani non sarebbero, direi più che altro che forse è qui che forse manca il contatto fra la scuola, cioè chi fa formazione e quelle che sono le organizzazioni che poi dovrebbero accogliere questi ragazzi, sostanzialmente. E questo evidentemente è davvero un grosso problema, lo affronteremo subito dopo la breve pausa pubblicitaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!